Parla tifoso juventino. Benvenuti alla Juventus oggi in prima del telegiornale come sempre lasciate il vostro mi piace. Iscriviti al canale. Grazie. Nuovo obiettivo della Juventus per l'attacco, la Juve punta sul 22enne marocchino Anas Zaruri. La Juventus è sempre interessata a nuovi talenti per il futuro. E il numero 10 della nazionale marocchina Anas Zaruri, è un giovane di grande talento, Anas Zaruri, che sta disputando una buona stagione nella seconda divisione inglese. Con 5 gol e 2 assiste in 16 partite per Burnley che è il leader della competizione. Zaruri viene preso in considerazione nella Juve ma anche nel club spagnolo Getafe, più la Juve trarrebbe vantaggio dall'avere più potere economico. Anas Zaruri è valutato 4 milioni di euro secondo il sito Transfermarkt. Tifoso sei d'accordo con Anas Zaruri nella Juve? Lascia la tua onesta opinione qui nei commenti.